ciao ragazzi oggi provo a spiegarvi le note di questo esercizio in slap è un esercizio tratto dal metodo di lorenzo forti lo storico slap and tapping secondo me molto molto valido anche se abbastanza difficilotto allora veniamo alle note partiamo con un mi a vuoto sulla corda di mi chiaramente poi gli mettiamo una nota morta sempre fatta col pollice prima di saltare di corda andare a prendere il fa diesis sulla corda di re al tasto 4 qua faremo un emmeron fa diesis sol tasto 45 quindi dopo la diesis sol nota morta mi mi questo qua sulla corda di la tasto 7 arriviamo fin qua ok quindi nota morta e poi il mi dopo ci mettiamo un mi basso il tempo è questo andiamo alla seconda battuta parte dal mi quello di prima sulla corda di la tasto 7 allora mi nota morta fa diesis sol come prima con sulla corda di re nota morta sulla corda di la e poi do diesis poi nota morta sempre sulla corda di la re e poi re diesis prima di poi cadere sul mi iniziale faccio solo la seconda battuta ok proviamo a farlo lento dall'inizio grazie a tutti per aver visto il video mettete un like se vi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao carlo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.